Come ridisegnare l'organizzazione territoriale del Friuli Venezia Giulia dopo l'abolizione delle province? La domanda è al centro del dibattito istituzionale di cui è protagonista l'assessore alle autonomie locali del Friuli, Pierpaolo Roberti, chiamato a formulare una nuova riforma degli enti locali, ma l'interrogativo è stato posto anche agli studenti della prima F della scuola secondaria di primo grado Bianchi di Codroipo, dove un intraprendente insegnante di geografia ha rivolto la sfida ai suoi studenti, un'idea che nasce... Nasce dalla fantasia di ragazzi curiosi che si sentono cittadini dell'Europa e di Europa in prima, normalmente alle medie si parla, di Europa fisica, ma che hanno bisogno per il futuro di un'identità ben precisa, per cui le radici nella propria regione credo che sia bene studiarle. Per cui abbiamo collegato, noi siamo parte di un istituto comprensivo, la prima media si collega, si dice nel mio mestiere, in curriculum verticale con quello che hanno fatto la scuola primaria, ci siamo collegati alle regioni che loro già avevano studiato, partendo dalle nostre radici e in parallelo abbiamo affrontato sia l'aspetto dell'Europa fisica, lo stiamo ancora affrontando, sia un approfondimento su quello che accade in questo momento nella nostra regione ed è nata una cosa che nel mio mestiere si chiama prova autentica, un collegamento tra il dentro e il fuori la scuola. Ne sono nate cinque proposte che ridisegnano il Friuli Venezia Giulia tenendo conto di aspetti geografici e morfologici, dell'attività turistica dei principali poli balneari e montani, della densità della popolazione o dell'affinità del tessuto economico. Sì, hanno proposto cinque differenti ricette per una suddivisione territoriale come riforma dei prossimi interlocali, quindi una suddivisione in province o cantoni o come vorremmo chiamarle, in base alla geografia, alla morfologia del territorio, ma anche altre proposte inerenti alla tipologia di economia del territorio, quindi penso a operare turistiche o per altri sistemi di tipo economico. Quindi sicuramente sono delle proposte molto strutturate e quindi complimenti. Oltre a loro vanno ovviamente anche gli insegnanti che li hanno seguiti in questo periodo. Assessore Roberti, se potesse cambiare o migliorare qualcosa, cosa cambierebbe o farebbe di nuovo? Beh, intanto di nuovo ritornerei qui ancora altre mille volte perché è stata una mattinata splendida con questi ragazzi che si sono messi a disposizione per affrontare un tema sicuramente non semplice come quello della riforma degli enti locali. L'hanno fatto con gli occhi dei bambini, ma forse proprio per questo l'hanno fatto veramente con uno spirito autentico e genuino, senza pregiudizi, senza piccoli battibecchi che ogni tanto ci sono tra territori. Quindi sicuramente è stata un'esperienza dal mio punto di vista esaltante, che ripeterei cento volte. E davvero l'abbraccio che ho ricevuto da questi ragazzi è stato fantastico. Grazie.